buongiorno sono francesco fiorica e al nome del dipartimento oncologico voglio ricordarvi che marzo è il mese della prevenzione dei tumori del colon red con immenso piacere voglio presentare il gruppo multidisciplinare delle patologie oncologiche gastrointestinali che nell'occasione del marzo ha preparato delle video pillole che cercheranno di fare luce su aspetti vari della patologia colorrettale dalla prevenzione alla diagnosi e alla terapia oggi è estremamente importante avere una squadra che si occupi della gestione del paziente oncologico perché il team è sempre vincente un po come nel calcio i colpi di genio del singolo campione possono aiutare ad uscire dall'impasse di qualche partita ma non ricordiamo nessuna squadra fatta da un solo campione che mai vinto un campionato quindi vedrete il team g affrontare diversi argomenti la prevenzione lo screening l'endoscopia le neoplasie eredofamiliari i trattamenti chirurgici comprensivi delle tecniche eras che oggi possono garantire un recupero ottimale del ritorno precoce e sicuro alle attività quotidiane i trattamenti oncologici sia farmacologici sia radioterapici obiettivo di queste video pillole è quello di formare l'utente sulle necessità della prevenzione e di informarlo che anche in AS9 c'è un team affiatato che si confronta per garantire la migliore soluzione per il paziente